Un weekend di lockdown ad Alba dopo che il Piemonte è entrato in zona rossa da venerdì 6 novembre. Piazza Michele Ferrero la troviamo praticamente deserta, così come via Cavour, piazza Risorgimento e via Maestra, il salotto della città, che proprio in questi giorni avrebbe dovuto festeggiare gli appuntamenti e gli eventi della novantesima fiera del tartufo bianco d'Alba, interrotti a causa del Covid. I motivi per uscire di casa si trovano, figli, scuola, parrucchieri, insomma si può uscire ma la normalità è un'altra cosa e soprattutto non c'è molto da stare allegri perché anche tra chi resiste serpeggia la preoccupazione per gli affari che vanno a rotoli e per una curva di contagi che non accenna a diminuire. In effetti c'è poca gente in giro, non c'è molta gente. Le mie esigenze sono aumentate e quindi ho bisogno di informarmi per adeguare il mio piano tariffario anche a queste nuove esigenze di lavoro. Bisogna fare dei sacrifici a star chiusi in casa, però un caffè, visto che i bar sono aperti, bisogna anche dare un aiuto al bar, oltre che al palato. Io purtroppo faccio un lavoro che devo continuare a lavorare perché non posso abbandonare pazienti senza visitarli perché sono malati cronici che vanno assistiti, però con tutte le precauzioni, con mascherine, con camici che poi si buttano via ma per almeno un mese o due bisogna soffrire. Siamo molto contenti che le librerie possano rimanere aperte anche in zona rossa e abbiamo comunque avuto dei riscontri anche questa mattina di persone che trovano un conforto nel poter venire in libreria e quindi noi non lasceremo sicuramente nessuno senza libri. Oltre a venire in libreria ci siamo organizzati anche per poter fare consegne a domicilio per chi ne avesse necessità. Diciamo che è stato un bel colpo, anche perché noi non è molto che siamo aperti e quindi trovarsi di nuovo semi chiusi così è stato difficile, però dai ci siamo un po' adoperate e riusciamo a lavoricchiare un po' con il take away, i pranzi, soprattutto durante la settimana con gli uffici e qualche caffè così ogni tanto. Cerchiamo di fare quello che si può. Comunque la gente è un po' questa nuova chiusura, l'ha patita e la paura c'è e anche il caffè preso così non tutti sono accetti a prenderlo. Diciamo che non è molto la tradizione, quindi diciamo che il caffè preso seduti al tavolo è un'altra cosa. Qui ad Alba i nostri clienti si stanno comportando molto bene, tutti come vedete uno per volta entrano in negozio, fanno la loro spesa tranquillamente, stanno facendo un po' di scorta perché bisogna venire una volta a settimana e fortunatamente sono tutti molto bravi i clienti e sono molto tranquilli. Qua alla grande va gli arrosti, fanno i brasati che continuano, i bocconcini, i bocconcini famosissimi al barolo, poi la famosissima carne cruda battuta al coltello. Noi qua come vedete adesso c'è pochissima gente, ci piange un po' il cuore vedere Alba così, però dobbiamo attenerci alle regole, dobbiamo anche noi fare il nostro dovere e poco per volta ce la faremo, anche stavolta. Grazie per la visione!